Chieti si muove contro la chiusura della prefettura appaventata dal Ministero dell'Interno, un taglio alla spesa che coinvolge anche Teramo, prevedendo la fusione nel primo caso di Chieti con Pescara e nel secondo di Teramo con l'Aquila. Impensabile, secondo il sindaco di Primio, sacrificare la provincia più grande della regione e con il numero più alto di popolazione e dopo un consiglio comunale straordinario ora si procede con un'assemblea alla presenza dei sindaci dei 104 comuni della provincia. Una riconduzione alla logica e alla razionalità che manca, mi sembra, nella bossa di decreto che abbiamo visto. Non ci sono criteri ravvisabili dal decreto e quelli che conosciamo, che sono legati alle ultime norme approvate dal governo, non mi sembra che riscontrino poi la valutazione fatta in quel decreto. Una proposta di Primio la fa e punta a coniugare taglio della spesa e presenza sul territorio, proposta che domani sarà presentata anche al ministro dell'interno in programma a Roma. Noi credo dovremmo invece ragionare su un piano molto più ampio di una regione che deve redistribuire le funzioni, di una regione che deve creare dei poli amministrativi a fronte di altre realtà dove magari le attività produttive piuttosto che quelle turistiche o quelle del terziario hanno maggiori possibilità e poi c'è quella invece che io provocatoriamente ho lanciato ma che anch'essa ha qualche fondamento, voglio dire, consistente per poter essere sostenuta che è quella della prefettura unica. Vogliono tagliare, vogliono risparmiare, vogliono che i territori vengano depauperati dai propri uffici? Bene, facciamo una sola prefettura e facciamo tre sedi provinciali, Teramo, Pescara e Chiedi, che continuino a conservare parte delle funzioni e quindi non, come dire, impoveriscano ulteriormente le nostre città.